Determinante per metà stagione, 19 presenze in tutto, 17 da titolare, poi sfortunato. È bastato un attimo e addio campionato. Dal Samba Carpi 5 a 1 del 24 gennaio scorso sono trascorsi 5 mesi e mezzo. Ora Shaka Mauli è pronto a tornare. Il centrocampista ganese è distante qualche settimana dal suo rientro. A un altro anno di contratto col club rosso-blu è lasciata stare la promessa dell'ex presidente Domenico Serafino, il rinnovo biennale sventolato dopo la lesione del legamento crociato del ginocchio destro. Il nuovo corso, targato Roberto Renzi, Sandro Porchi e Massimo Donati, ha messo Shaka Mauli in cima alla lista dei calciatori ereditati dalla precedente gestione da riconfermare. Il ganese sta completando la riabilitazione dopo l'intervento di inizio febbraio e lo sta facendo a Cesenatico dal dottor Claudio Cola. Entro fine mese dovrebbe arrivare il via libera. Facile insomma che Shaka Mauli si aggregherà più avanti nel ritiro rosso-blu di Sefro. Si parte tra dieci giorni. Nel maceratese dovrà dimostrare di poter velocemente tornare, quello ammirato nella prima parte dell'ultimo torneo. E intanto il DS Porchia porta avanti il mercato dopo aver prenotato il portiere Lorenzo Avogadri dell'Atalanta e il centrocampista svincolato Riccardo Cataldi. Priorità alle cessioni degli stranieri sotto contratto, mentre Mattia Lombardo è vicino al Novara e Giacomo Biondi è promesso all'Arezzo. L'altra urgenza è l'attaccante. Dopo il no dello svedese Nicola Vasic della regina, Porchia ha mollato Vincenzo Plescia. 11 gol nell'ultimo torneo con la maglia della Vibonese. Il giocatore di proprietà del Renate non riandrà in prestito. Il club Lombardo è disposto a trattare solo l'eventuale cessione. Porchia non ha approfondito ulteriormente il discorso col collega Antonio Bidio. Per la punta di peso, insomma, la Samba continua a sondare il mercato di Serie D.